Il problema dei parcheggi è un problema che vorremmo affrontare in maniera completamente diversa perché sono tante le novità che dobbiamo apportare per far sì che i cittadini possano parcheggiare serenamente nella città di Termo, quindi di questo dovremmo parlare purtroppo, invece ci troviamo a parlare della dimensione degli stalli perché ci sono state queste dichiarazioni da parte del Consigliere Fracassa, ma anche due interrogazioni in Consiglio Comunale. Lui cita il Codice Civile, non cita gli articoli, ma in realtà la dimensione degli stalli sono definiti da un decreto ministeriale che definisce la larghezza per i parcheggi a Pettine e per i parcheggi a Spina Pesce a 2,30 m. Chiaramente quando lui ha fatto la prima interrogazione abbiamo verificato con la ICERP che tutto fosse corretto e ci siamo chiaramente confrontati anche con gli uffici, perché è giusto che un consigliere faccia delle domande, ma alla quarta intervista, alla seconda interrogazione di Consiglio, ormai siamo arrivati al punto tale da spiegare al Consigliere Fracassa in maniera definitiva che tutti gli stalli della città di Termo rispondono alle norme vigenti sotto l'aspetto della dimensione, ma c'è una particolarità che è quella di Piazza Verdi. Su Piazza Verdi noi effettivamente, la ICERP ancora non riesce a definire gli stalli, a ridisegnare gli stalli proprio perché ci sono intervenuti dei lavori. Era un modo anche per risparmiare soldi pubblici, per non dover stare a dipingere le strisce due volte. Lui parla di 14 stalli in più, ma noi non siamo intervenuti, quindi sono gli stalli che abbiamo trovato dalla sua amministrazione. Allora, se lui dice che siano stretti oggi, quando lui amministrava evidentemente lo erano lo stesso, quindi o il metro è stato inventato nel 2018, oppure il Consigliere Fracassa sta utilizzando questa situazione di Piazza Verdi solo per fare una becera campagna elettorale. Ah, sulle multe stiamo intervenendo, stiamo intervenendo perché stiamo cercando di trovare una soluzione amministrativa che ci consenta di utilizzare l'avviso di cortesia. Ci sono delle sentenze della Cassazione che purtroppo vanno nella direzione contraria perché quando c'è un ritardo del pagamento del ticket scatta la sanzione amministrativa, quindi il rispetto del codice della strada viene meno. Però ci sono dei casi in Italia che sono stati in qualche modo utilizzati dallo stesso soggetto gestore e quindi stiamo adesso cercando di valutare alcune soluzioni che loro ci hanno proposto proprio in questi giorni, li stiamo valutando a livello amministrativo personale definitivamente questa cosa perché effettivamente anche noi come amministrazione riteniamo che le sanzioni fatte per un ritardo a volte anche di 40-50 minuti siano in qualche modo evitabili.